ciao a tutti e lei Marianna insieme alle sue sorelle passerelle e oggi ci sfideremo perché oggi ragazzi faremo diversi giochi e faremo l'ultimo che perde vince la sfida che avrà in premio un gustosissimo cibo scelto da mamma perciò avrà voto 10 sicura ma sarà gustosissimo o poco gustoso ma carino gustosissimo voi non sapete se realmente ci sarà una cosa buona per favore mamma gustosissima e chi perde che fa? guarda l'altra mangiare o mangerò una cosa disgustosa che ho detto? stavo giocando non mangerò una cosa disgustosa ma non mangerò nulla guarderà il vincitore che si gusta il suo cibo che potrà essere o salato o dolce la scelta è la mia speriamo che è come nel video ragazzi quello la che abbiamo fatto in piscina che chi vinceva si sceglieva un cibo che vi lasciamo qui andatelo a vedere speriamo che è come quel cibo molto buono lo scoprirete solamente iniziando con il primo gioco eccoci qua ragazzi con il primo gioco che noi chiameremo step cracker ma questo è già un premio nooo con questi li usirete per il gioco in cosa consiste avrete due minuti di tempo in questi due minuti di tempo dovrete prendere quel cracker poggiarlo sulla testa così al contrario per lungo infatti per questo gioco ma io non dovrei togliere gli occhiali altrimenti ti si incastrano all'interno dell'occhiale e il cracker non scende e io ho due le piscine agli occhiali e con i movimenti facciali dovrete far cadere questo cracker nella vostra bocca senza farlo cadere se il cracker cade dovrete prendere un altro e allo cadere dei due minuti ti avrà mangiato più cracker se avremo mangiato i cracker riusciranno queste sorelle è difficile è difficile penso di si vincerà la challenge quindi siete pronte ragazze siete pronte 3 2 1 via iniziamo così vai mariana vai mariana già ne ha fatto cadere uno allora però vai addosso no 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 ne ha fatto cadere non si può riprendere tessi senza usare le mani non si usano le mani vai continate vai con il secondo cracker siamo a un minuto e quaranta tessi non si usano le mani ma io la sto usando vai continuate mi è caduta un altro già Vai Desi Desi mi chiamo Desiree Vai Desi che ci sei quasi Marianna Ma io non vedo muovere Vai Desi che ci sei quasi Marianna è caduto Vai Desi E va bene Sono cari tutti No Ragazzi è un momento che era difficilissima Siamo a un minuto e sette secondi E le sorelle qui ancora Non hanno mangiato neanche un cracker Fai Desi No Ce l'avevo preso L'avete quasi preso Metti giù la mano Piano Piano Aiutati con la lingua Vai Desi Marianna ha preso il primo cracker Io il problema non ho finito 1 a 0 prendi quell'altro 1 a 0 per Marianna Continuate Continuate Dai che mancano 30 secondi Ah Vai Desi No Mancano 25 secondi Siamo 1 a 0 ancora per Marianna Vediamo se Desiree riesce a recuperare Si può muovere Vai Desi Vai Sì basta che non usi le mani Marianna Marianna No Marianna ci sei quasi Marianna 4 3 2 No Marianna 1 Stop Niente Un cracker me l'ho mangiato Questa sfida Marianna ha preso un cracker Quindi questa prima sfida è stata vinta da Marianna che si aggiunga il suo primo cibo gustosissimo Che buono E voilà ecco qui per Marianna il suo premio che speriamo che le piacerà che può essere anche che non le piace Tu che dici Sniffiamo Non sento niente Senti qualcosa? No Ehi sei curiosa di vedere cosa c'è all'interno? Molto Ragazzi penso se non ti piaceva E 3 2 1 Alza Che cos'è? Non capisco E' tipo Ma è tipo il Vabbè ho capito Buono Il Nutella Birei di tipo Allora ragazzi E' un Io non l'ho mai visto sinceramente E' la prima volta Quindi lo gusteremo insieme a voi Io lo gusteremo Mariana lo gusterà insieme a voi Ma deve essere buonissimo E' un wafer pieno di Nutella Mamma mia Fai vedere? No ragazzi guardate un po' qua No Eh Non toccare tu E' spessissimo E penso che Fance farà anche un bel po' di crunchy Pronti? Mettiamo un po' Mmm E' molto buono Com'è? Eh? Io lo vedo buonissimo E' buono? Il tuccolato dentro è un po' strano E' molto buono Mmm Molto buono questo premio Questo è già mori Eh? Oh Non si fa questa cosa Che brutta cosa Allora Com'è questa prima sfida? Vincere questa prima sfida Eh? E' stata di tuo gradimento E' stata gustosa Come si era detto Mmm Eh voglio passare la seconda sfida Seconda sfida? Eh? Ti sei saziata allo stomacchino? Si Eh? Quindi? Ma dopo tanto vincere un'altra volta Dici? Mmm secondo me su questo ho un po' di dubbi Perché è un gioco Perché è un gioco che a desideri piace molto Che gioco? E devo essere sincera A me mi sconfigge sempre Tu hai capito che gioco? No E non lo sapete che gioco è Lo scoprirete fra un attimo Eccoci ragazzi per il secondo gioco Ragazzi guardate cosa abbiamo in mano I joystick rosso e blu della Nintendo Switch Perché? Cosa dovranno fare queste sorelle? Si dovranno sfidare nel box da tavolo Ma che? Perché non funziona? Ma che stai facendo? Non funziona Ma non funziona no Ma mica dovete giocare fra di voi Ma secondo voi io vi faccio fare giochi violenti? Si facciamo Dovete giocare ovviamente con la Switch Dovete vincere due partite Ok Pronte? Pollicioni? Attivi? Si Sono attivi i pollicioni? Si Allora ovviamente Marianna sarà il pugile Blu E Desiree il pugile Rosso Perfetto Siamo pronte per iniziare? Già sta iniziando Vai In questo momento sta in vantaggio Desiree Desiree io ve l'avevo detto ragazzi Per questo gioco è fenomenale Quindi 1 a 0 Ok va bene Se Desiree Si riparte Seconda partita Vai partite Via Non ci posso vedere Desiree di nuovo Desiree di nuovo sta per buttare Ha buttato in pochi secondi Il pugile blu Marianna Marianna io l'avevo detto Io sono un sobrano È fenomenale Desiree ma come è possibile Non ti batte nessuno a questo gioco Ma sei fortissima sei Brava Batti 5 Batti Uiii Eh tu è che sei invidiosa Chissà che cibo avrà Magari più buono del tuo Oppure no Oppure un panino col salame Che buono Che buono Che sarà mai Desiree sei curiosa di saperlo Si E allora Andiamo a scoprire questo premio Ecco qui Dede Il premio Senti qualcosa Non lo so E quindi sei molto curiosa E allora il mio 3 apri Eh 3 3 2 1 Salame Che cos'è Desi I salamini I salamini Ma perché Ma i salamini Ma perché Ma a te non piace Perché a me A lei è una cosa salata A me è dolce Perché a te piace il dolce Non è vero Sinceramente non mi fai Non mi fai invidia Perché adesso non so appena mangiare Il cioccolato Non è vero ragazzi No sinceramente no Stiamo morendo dentro Dalla bocchia di mangiare Non è vero Non è vero Perché poi sono rosa rosa Non so strani Non so strani vero Fammi vedere Sì infatti so stranissimi Ma li vogliamo buttare Questi salamini No Eh Sono buoni Sono buoni Ancora Ah so per mangiarlo Non mi gustano Desi Com'è Quanto è buono Ragazzi a voi Intanto che Mariana Sono rimasti ancora Mariana intanto che tua sorella mangia Di qualcosa ai tuoi amici Cosa devono fare sempre Mettere un pollicione Iscriviti al canale Attiva la campanellina E commentare Se gli piacciono Questi salamini Questi salamini buonissimi Ragazzi voi siete più da dolce Team salato Team dolce O team dolce Scrivetelo sui commenti L'ultimo salato tutta la vita Manca l'ultimo due Certo direi che le spazzolati con un attimo Solo uno te ne manca Caspita Ecco il salato Solo uno Dai sbrigati Voglio passare all'altra sfida Dai passiamo all'altra sfida Che c'hai sulle mani? Niente Un salamino Però passiamo all'altra sfida Va ciao No 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 Desi 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 se lo mancia Sbrigati Se perde la sfida Perde la sfida Desi Mari dove l'hai messo? Mmm Ma intanto perdevi la sfida pure La terza sfida Dai andiamo Andiamo alla terza sfida Andiamo Desi E' finito? Eh? Andiamo alla terza sfida? Andiamo Andiamo alla terza sfida Eccoci qua ragazzi Per la terza e ultima sfida Come vedete ci sono delle manette Perché queste due sorelle Per quest'ultima sfida Si sfideranno in manette matte Ragazzi Guardate un po' queste manette Vi ricordano qualcosa? Ma vi ricordano qualcosa? 24 ore con le manette Eh si ragazzi Come era complicata quella sfida Vi ricordate ragazzi Quando ho proposto a queste due signorine Di passare 24 ore con le manette Che disastro Andate a vedere il video Molto divertente Quindi dovete fare quest'ultima sfida Allora come vedete Qui ci sono tre livelli Dal verde Che è il più semplice Il giallo Che è quello meglio E ovviamente il rosso Che è quello più Che è il livello più difficile Non ci sarà un tempo La prima Che supererà tutti e tre i livelli Vincerà questa ultima sfida E questa volta Si aggiudicherà Veramente Ma dico veramente Un premio Gusto Sì sì No Perché ovviamente Questa è una sfida Molto difficile Ok Avete messo il livello Prendete la chiave Vedete ragazzi Qui abbiamo Una chiave Ho messo a male Che servirà Che sto facendo? Ho messo a male Sono scomodo Servirà per superare questo livello Lo dovranno inserire lì All'interno di questa fessura E avranno tipo un labirinto Si Dovranno capire Quando arriveranno giù in fondo Si aprirà la manetta E potranno passare al secondo livello Si Quindi Siete pronte? Si Pronti? Siamo infilate Tia Vediamo Per il momento Sembra che Desiree E' più avanti Oh Insieme Insieme ragazzi Alla terza La manetta Andiamo con il secondo livello Giallo Difficoltà Media Vediamo Vediamo Questa volta Se tutti e due Ci danno Insieme Ad aprire Le manette Desiree Ha inserito adesso La piave Marianna Già E' più avanti Vediamo Desiree Che punto Sta Desiree La vita Buon livello Marianna Sta sopra Sopra Eh sì Forse C'è Quasi Io Giallo Già Sto male Non c'è Difficile Eh Dio Mi sei Smottata No Marianna Mi ha portato tutto Devevi cominciare da capo No Ragazzi Non Desiree Approfittane Approfittane Desiree Era Già Era Allacciata La chiave Quindi Desiree Dai Dai No Desiree Si è Bloccata La chiave Prova Smuovila Smuovila Marianna È passata All'ultimo Livello Quello Rosso Quello Veramente Più Difficile Non Parare Ecco Ecco Vai Desiree Veloce 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 Anche Desiree Assumerato Il secondo Livello Vai Che ci siamo Quasi Vai Desiree Velocissima Vai Che puoi Recuperare Puoi Recuperare Marianna Facci Vedere Cosa Stai Facendo Niente Si sta Rismontando Gli amici Ma è Difficilissimo Marianna sta sudando Molto Già stai pensando al premio Vero? Ma secondo te che può essere? Eh? Ti distraggono ragazzi Ti distraggono Non distraggere Mamma mia però Mi si smonta sempre Una torta Vai Vai Ragazzi La vedo durissima Questa prova Oh Si è aperta Ma non è possibile Si è aperta Sei sicura? Si è aperta Non giuro Si è aperta No Quando l'ho Quando lo sa L'ho rimessa Non so come ho fatto Perché ogni volta Che la rimetti È diverso Il labirinto Che fa Quindi È andata tutta giù La devi togliere Quando la devi rimontare L'ho tolta L'ha tolta Ragazzi Non so come si toglie adesso Però questa Secondo voi Gliela diamo valida Questa prova Sì io Ho fatto No Eh sì Gliela diamo valida Questa prova Questa signorina Sì io L'ho fatta bene L'ho fatta bene Mi la merito E si smonta ogni tre Noi pure quando gioco Mi si smonta Eh Va bene Come va bene Come va bene Con un piccolo dubbio È vero Questa terza ed ultima fida Se la giudica Mariana E questa volta Veramente avrà un premio Desiato Gustosissimo Ecco qua L'ultimo Premio Che se l'è Che ha giudicato Mariana Mi vedo l'ora di vedere Cosa c'è sotto Come avevamo Anticipato prima Sarebbe stato un Cibo Gustosissimo Gustosissimo Ti fidi di mamma? Sì No Non guarda No Sento odore di pane Non so Cosa si Un panino Di pane C'è una brizzola Hai un figlio un po' strano Qua c'è Sarà pure il coso mio Allora Sei pronta Mari? Sì Mi viene da ridere Adesso Desi Insieme a me 3 2 1 Via Diciamo Pronti 3 2 1 Via Che cos'è? E direi proprio Che è un premio Gustosissimo Un bell'hamburger Con Hamburger Hamburger Bacon Insalata Insalata Pomodori E sottiletta Caldo Caldo Appena fatto Occhi Vedi Adesso hai fatto bene Affidarti di mamma Diamo un bel morso 1 2 Com'è? E direi che questo è gustoso Proprio a livelli altissimi E te E te Mari com'è questo panino? E? E' buono E direi proprio che è buono Guardate un po' ragazzi Guardate questo bel panino Mamma mia che buono Senza togliere niente ai raffer Senza togliere niente ai salamini Ma questo li batte tutti Vero? Ma veramente tanto Perfetto Perfetto ragazzi Allora ti abbiamo fatto vedere Questi giochi divertentissimi Fanno il pulso Saluto Fatte dalle solate Pazzerette Tanto mi gozo il panino E come sempre Mentre Maria Anna Si gusta il suo ultimo panino Come sempre Noi vi diciamo Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Mettendo un sponso di cione Attivate la campanellina Ding dong Ding dong E iscrivetevi al canale Che è molto bella E parte bella E E al prossimo video ragazzi Ciao